Imprenditori i cui profili criminali sarebbero emersi nel corso di diverse operazioni di polizia condotte negli ultimi anni a Reggio Calabria. E' questo il profilo degli esponenti della famiglia Bagalà, imprenditori con diverse società impegnate nella gestione di appalti pubblici a cui sono stati sequestrati beni per un ammontare complessivo di circa 115 milioni di euro. Tra le operazioni che evidenziano il profilo criminale di questi imprenditori c'è l'operazione Ceralacca conclusa tra il 2012 e il 2014 con 25 provvedimenti restrittivi personali nei confronti di soggetti ritenuti responsabili dei reati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti, corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. Tra queste persone ci sono anche Giuseppe Bagalà, 61 anni, e Francesco Bagalà, 28, nonché di provvedimenti cautelari reali su 15 imprese, beni immobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore stimato in circa 48 milioni di euro. È prematuro fare certi ragionamenti, bisognerebbe concentrarsi più sui progetti che non sui nomi di candidati. Lo ha detto il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa alla Comune con riferimento alle prossime elezioni regionali. Mi sembra, ha aggiunto Abramo, che si stia parlando poco di progetti, dei disagi dei calabresi e di come eventualmente i movimenti politici vorrebbero risolvere i problemi atavici che affliggono la Calabria. Bisognerebbe parlare più di sviluppo che non di nomi e candidature. Aspettiamo perché, comunque, ha concluso il sindaco di Catanzaro, credo che dopo l'estate, alla ripresa della pausa estiva, ci sarà un movimento che permetterà di indicare anche chi sarà il candidato presidente. Bisogna mettere in campo e senza indugi il piano regionale per il termalismo in Calabria. Non è più rinviabile, inoltre, il rifinanziamento della legge regionale 38 del 3 settembre 2012, valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria. Si sono persi quattro anni senza riuscire a dare impulso a un settore strategico per lo sviluppo della Calabria. Non è stata messa in campo alcuna iniziativa in grado di destagionalizzare il settore turistico. È quanto ha affermato il consigliere regionale Carlo Guccione, che sulla questione ha presentato un ordine del giorno da inserire e discutere nel prossimo consiglio regionale. La revisione del Por Calabria Fers Refse 2014-2020 tra i dati salienti della Commissione Bilancio riunitasi sotto la presidenza di Giuseppe Aieta. L'organismo consigliare ha espresso parere favorevole alla proposta della Giunta regionale che adesso verrà notificata alla Commissione europea. Il presupposto ha spiegato Aieta adeguare le scelte programmatiche iniziali al mutato scenario del contesto socio-economico che ha interessato anche le dinamiche connesse alla Regione Calabria. Con questo procedimento si apportano modifiche all'elenco dei grandi progetti presenti nel Por e alcune risorse recuperate saranno dirottate in vari ed importanti settori, ad esempio l'acquisto di bus elettrici per tutelare l'ambiente. La Commissione ha espresso inoltre parere favorevole, voto contrario del consigliere Orso Marzo alla proposta di legge numero 349-10 di iniziativa della Giunta regionale riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e all'unanimità alla bilancio di previsione dell'azienda Calabria Lavoro per il triennio 2018-2020. Intanto oggi abbiamo rimodulato il Por insomma una decisione dell'Aggiunta che abbiamo accolto all'unanimità tra l'altro perché abbiamo postato delle risorse finanziarie sul credito d'imposta per le aziende calabresi e sull'acquisto di bus e mezzi di trasporto pubblici elettrici a tutela ovviamente dell'ambiente. Il tutto rientrando ovviamente nella strategia della Commissione europea per la Calabria. Abbiamo approvato l'ennesimo bilancio, credo siamo al 53-54 bilancio approvato in questi anni e questo riguarda l'azienda Calabria Lavoro che ne era sprovvisto così come abbiamo fatto nelle scorse settimane, negli scorsi mesi con le altre aziende e gli enti strumentali della Regione Calabria. Questa è stata una grande azione di bonifica degli enti strumentali e poi abbiamo approvato un'importante legge sulla ricettività turistica e sui B&B un lavoro che sul turismo sta dando i propri frutti e che attraverso queste leggi, i bandi che sono in corso quelli che stiamo per pubblicare e che sono in preinformazione daranno ossigeno all'economia calabrese, alla ricettività turistica calabrese, alla riqualificazione dell'offerta. Un atto di grande trasparenza da parte dell'amministrazione, così il direttore generale dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, Giuseppe Panella, parlando con i giornalisti, ha definito la sua decisione di sospendere un concorso pubblico per infermieri e operatori sociosanitari sul cui svolgimento sono state denunciate irregolarità da parte di alcuni partecipanti. Compito di un'amministrazione come la nostra, proseguito a Panella, è chiarire le modalità con cui si sono svolte le procedure. Penso sia un atto dovuto, un atto di grande trasparenza che, ha concluso l'EDG dell'azienda ospedaliera di Catanzaro, ritengo possa servire a tutela della tranquillità generale. La provincia di Catanzaro e l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio hanno sottoscritto una convenzione per l'utilizzo da parte dei mezzi sanitari della strada di collegamento tra l'area del Presidio Pugliese e l'accesso del Presidio Ciaccio dell'Ellis all'interno del Parco della Biodiversità Mediterranea. L'obiettivo dell'intesa, sottoscritta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, Enzo Bruno, e dal Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera, Giuseppe Panella, è quello di ridurre fino a un minuto i tempi per il trasporto da un presidio all'altro, sia di pazienti o operatori, soprattutto in fase di emergenza-urgenza, sia di farmaci ed emoderivati, evitando il passaggio sull'arteria comunale, il viale Pio X, che collega i due presidi, arteria caratterizzata da un traffico molto intenso per buona parte della giornata. Ringrazio molto il Direttore Generale del Pugliese Ciaccio, che è qui con noi a siglare questa convenzione e in questo momento lo voglio ringraziare anche per il lavoro straordinario che sta facendo in risposta alla domanda di salute che i cittadini calabresi in questo momento chiedono. Lo sta facendo anche attivando quelle procedure concorsuali che finalmente sbloccano un turnover terribile. Da dieci anni noi non abbiamo concorsi e grazie al coraggio di questo Direttore Generale sta sbloccando il turnover. Quindi io sono molto contento di essere qui con lui a siglare questa convenzione che ci consente di dire che stiamo lavorando per una sanità migliore. E' una collaborazione che abbiamo sempre avuto con l'ente provinciale. Io ringrazio il Presidente Enzo Bruni. In questo caso sicuramente è un percorso che facilita sia soprattutto il trasporto di degenti dal Pugliese al Ciaccio e quindi velocizzando anche dei tempi clinici e anche dei tempi di risposta nei riguardi delle necessità del paziente di avere esami o di avere consulenze sia dal bidirezionale ovviamente dal Pugliese al Ciaccio o dal Ciaccio al Pugliese. Chiaramente è un percorso più veloce perché non passando più sul Viale Pio X abbiamo dei tempi più ristretti. Non solo ci servirà, ma è la cosa principale per i pazienti ma anche per i problemi di logistica, per il trasporto di materiali dalla farmacia o dai reparti del Pugliese al Ciaccio e viceversa. Dalla mattina di mercoledì le imprese della Sorical hanno iniziato i lavori di manutenzione sullo schema idrico al servizio dei comuni di Cotronei, San Giovanni in Fiore, Caccuri, Castelzilano e Cerenzia tra le province di Cosenze e di Crotone. Il cronoprogramma degli interventi concordati nel corso dell'incontro in Sorical con i cinque sindaci interessati prevedeva la riparazione di una consistente perdita della condotta aduttrice dal partitore Trapidò al partitore Garruba in Viarvo nei pressi del villaggio Baffa. Sorical è comune a seguito del rinvenimento di alcuni allacci non regolari realizzati molti anni fa di cui si disconosceva l'esistenza hanno concordato di procedere alla chiusura di tutti gli allacci non regolari e alla regolarizzazione delle servizie di utenze censite dalla comune di Cotronei. Successivamente è iniziata la campagna di misurazione su tratti di condotta al fine di verificare la presenza di ulteriori allacci abusivi e di eventuali perdite. Sul posto i carabinieri della compagnia di Trepidò che stanno svolgendo le indagini a seguito delle due denunce presentate da Sorical sia per il sabotaggio dell'impianto Garruba che per la presenza degli allacci abusivi. In meno di 24 ore l'amministrazione comunale ha mantenuto la promessa fatta ieri, 23 luglio agli inquilini che avevano espresso alcuni disagi in merito alla gestione dei rifiuti in inviale ai Sonso 222 a Catanzaro la ditta competente ha provveduto a ripulire l'area dai rifiuti abbandonati illicitamente a bordo strada ad effettuare le diserbo e a sistemare i carrellati della differenziata per le nuove abitazioni e la dichiarazione dell'assessore comunale Danilo Russo a poche ore dalla consegna di 14 alloggi di edilizia pubblica in viale ai Sonso agli aventi diritto inseriti nella graduatoria definitiva del comune di Catanzaro durante la quale i residenti avevano lamentato appunto la presenza di rifiuti per la strada. Come già detto pubblicamente, continua Russo il comune non è sordo davanti alle legittime richieste dei residenti e anzi è intervenuto più volte per bonificare quest'area dai rifiuti conferiti in maniera illecita spetta ai residenti l'onere di mantenere la pulizia e il decoro. Da parte nostra ci attiveremo per potenziare le misure di controllo e la videosorveglianza affinché fungano da utili strumenti di prevenzione. Per quanto attiene gli immobili ha specificato l'assessore comunale la competenza è dell'ATERP, l'azienda territoriale edilizia residenziale pubblica. Un operaio di 50 anni è morto in un incidente sul lavoro a Borgia, un centro a pochi chilometri da Catanzaro. L'operaio, secondo quanto si è appreso, è caduto per causa in corso d'accertamento da un'impalcatura sulla quale stava lavorando per la realizzazione di un muro. L'uomo è deceduto sul colpo anche perché un pezzo di ferro nella caduta gli si è conficcato nello sterno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Hanno un volto e un nome altri tre responsabili dell'omicidio di Giuseppe e Canale, una vera e propria esecuzione seguita in pieno giorno il 12 agosto del 2011. Sono stati arrestati questa mattina durante il blitz congiunto dei carabinieri dei comandi provinciali di Reggio e Vibo Valencia. Si tratta di Antonino Crupi, 36 anni, Giuseppe Germanò, di 48 entrambi di Gallico e di Diego Zappi, a 33 anni, di Oppido Mamertina. Devono rispondere in concorso tra loro e con gli altri indagati già finiti in carcere nell'ambito dello stesso procedimento penale di omicidio, detenzione e portodarmi clandestine da guerra, ricettazione, il tutto commesso con l'aggravante del metodo e delle finalità mafiose. Già lo scorso 10 novembre erano stati arrestati altri mandanti ed esecutori materiali del delitto, individuati rispettivamente in Filippo Giordano, Domenico Marciano e Sergio Iannò e in Cristian Loiello, Nicola Figliuzzi e Salvatore Callea. Le indagini dei militari dei nuclei investigativi di Reggio e Vibo ad operare sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e del sostituto procuratore Sararmerio però non si sono fermate lì. Fino all'arresto oggi di queste altre tre persone ritenute coinvolte nel grave fatto di sangue compiuto nell'estate di sette anni fa, un grave fatto di sangue fin da subito dagli inquirenti inquadrato come un regolamento di conti interno al cartello di indrangheta ad echidico federato alla Cosca Condello. A confermare le tesi degli inquirenti, le dichiarazioni convergenti di diversi collaboratori di giustizia, ultime in ordine di tempo quelle di uno dei presunti killer del delitto Canale, Nicola Figliuzzi, nel frattempo pentitosi. Giuseppe Canale, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato ucciso perché è divenuto personaggio scomodo al gruppo facente capo ad Antonino Crupi e Domenico Marcianò, perché è ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio di Domenico Chirico, suocero di Crupi, risalente al 20 settembre 2010. Nella prima fase delle indagini, i collaboratori hanno fornito precisi elementi sui soggetti che materialmente avevano proposto l'omicidio ai killer, ovvero Salvatore Callea e l'odierno arrestato Diego Zappia. Nuovi elementi sono emersi inoltre sulle modalità con le quali il killer sono stati indirizzati su Canale, soggetto non conosciuto dagli esecutori a soldati per il suo assassino. Si tratta di Marcianò già detenuto e Crupi, destinatario dell'odierna misura, che hanno incontrato i killer, hanno condotto insieme a loro i sopralluoghi sul luogo dell'agguato, hanno fornito una descrizione fisica della vittima, hanno dato il via all'esecuzione e hanno garantito il supporto logistico prima, durante e dopo l'omicidio. Tra i mandanti dell'omicidio, infine, insieme a Domenico Marcianò, Sergio Iannò, anche lui già colpito dalla precedente misura cautelare, Antonino Crupi, figura Giuseppe Germano. Germano, secondo quanto ricostruito ancora dai carabinieri, avrebbe messo a disposizione il locale del proprio negozio di ortofrutta Gallico per le riunioni nel corso delle quali sarebbero state definite le modalità organizzative dell'assassinio di Giuseppe Canale, prendendo parte in prima persona alla programmazione dell'omicidio. Ha preso il via davanti al collegio penale delle tribunali di Cortone il processo scaturito dall'operazione della Didia di Catanzaro denominata Gianni, che nel maggio 2017 svelò le infiltrazioni delle cosche di Isola Capo Rizzuto nel centro di accoglienza per migranti gestito dalla misericordia e portò alla fermo di 68 persone. Alla sbarra davanti ai giudici di Cortone ci sono 38 imputati, tra i quali l'ex parroco di Isola Don Edoardo Scordio, gli stessi che hanno optato per il rito ordinario, mentre altre 80 persone, tra le quali l'ex governatore della misericordia Leonardo Sacco, attualmente detenuto in regime di 41 bis, hanno scelto il giudizio con il rito ordinario, tuttora in corso davanti al gruppo distrettuale di Catanzaro. All'udienza si sono costituite nuove parti civili, tra cui Libera, Asgi, ma anche Ministero dell'Interno ed Agenzia delle Entrate, il cui rappresentante, l'Avvocato dello Stato Luca Matarese, ha quantificato il danno patrimoniale per il Ministero in 36 milioni di euro e ha chiesto un risarcimento di 52 milioni, comprensivo anche del danno all'Agenzia delle Entrate. In precedenza si erano costituite parte civile la Confederazione Nazionale delle Misericordie, la Federazione Interregionale delle Misericordie di Basilicata e Calabria, il Comune di Isola Caporizzuto e Antonio Frustaglia, ex Presidente del Consiglio Comunale di Isola Caporizzuto. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Cosenza, a conclusione di indagini dirette dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 280 mila euro nei confronti di 5 persone accusate di aver incassato indennità pensionistiche erogate dall'Inps in favore di loro familiari deceduti. Dalle indagini condotte dai finanzieri è emerso l'incasso anomalo da parte di numerosi ultranovantenni di trattamenti pensionistici. Si è proceduto così a verificare la posizione di oltre 15 mila persone beneficiarie di pensione e rientranti negli elenchi nominativi forniti dall'Inps. Presentata nel comune di Catanzaro la quinta edizione di Altrove Festival. Il 2018 segna un importante punto di arrivo e ancora di partenza per Altrove Festival. La manifestazione arriva infatti al quinto anno di età di un percorso di crescita che l'ha portata ad essere considerata un punto di riferimento nel mondo della street art e della rigenerazione urbana e uno dei più influenti eventi in Europa nel suo campo. Altrove Cinque fa il punto sui cinque anni di lavoro del Festival mettendo al centro del suo cammino la sperimentazione artistica ad avanguardia e la riflessione su nuovi modi di vivere, abitare e ripensare la città contemporanea. Quartier generale del Festival sarà ancora una volta il centro storico di Catanzaro che fin dalla prima edizione del 2014 è stato messo in risalto tramite l'organizzazione di mostre ed eventi culturali. Gli organizzatori ai nostri microfoni. Eddie Suraci, intanto le novità della quinta edizione di Altrove? Due grandissime novità. Il primo è lo spostamento delle date. Arriviamo ad agosto, insomma se prima abbiamo iniziato partendo da maggio siamo arrivati al quinto anno a proporre il Festival ad agosto perché sono cambiati anni in anno e quest'anno l'obiettivo è di essere assolutamente attrattivi per le persone che vengono anche da fuori Catanzaro. Stanno già pernotando tantissime persone per visitare il Festival che non può che essere una bellissima scusa per vedere poi tutte le bellezze appunto naturalistiche della Calabria. L'altra grande novità è la presenza di una grande mostra al Museo Marca quindi per la prima volta entriamo in un museo di rilevanza assolutamente nazionale con uno storico importantissimo, il museo che ha ospitato Daniel Biuren, Michelangio Pistoletto, Bonalumi, Pino Pinelli quindi si parla di uno storico studente di eccellenza internazionale. La manifestazione sarà una sfida e è sempre stata una sfida nel senso che fa parte proprio del nostro modo di fare, di pensare, di progettare la nostra proposta quindi quest'anno certamente sarà una sfida come lo è sempre stato e anche negli anni successivi ci inventeremo nuove sfide. L'obiettivo è proprio quello di riuscire a portare a una crescita e quindi tutto quello che è crescita specie in ambito culturale è una sfida, vuol dire provare ad alzare l'asticella dell'offerta e quindi inventare nuovi modi. Una scommessa sì che diventa certezza e tramite questa rassegna abbiamo la possibilità di far parlare bene di Catanzaro sui media nazionali. Oggi cambia anche un po' volto diventando e attraendo a sé una vocazione turistica che siamo certi potrà essere rilanciata in positivo e continua a crescere quello che io oggi definisco un vero e proprio movimento culturale che è nato assieme ad Altrove. Assolutamente sì, è una sfida acquisita nel senso che il festival nasce cinque anni fa per lungimiranza del sindaco Sergio Abramo che sceglie di credere in questi ragazzi, nell'idea e nella professionalità di questi ragazzi che hanno messo a disposizione della città. Mai come oggi, come abbiamo già detto, effettivamente il festival di Altrove si approccia dal punto di vista turistico, quindi far conoscere la città. L'acquisto di Ronaldo può significare anche una rinascita per il calcio italiano? Io posso parlare e dire che Ronaldo è stato un grande acquisto, sicuramente farà bene al calcio italiano. Così il commissario tecnico della Nazionale di Calcio italiana Roberto Mancini, parlando a Catanzaro durante l'edizione del Premio Ceravolo 2018, ha segnato proprio al nuovo tecnico della Nazionale di Calcio. Beh, io in quegli anni lì ero giovane e iniziavo a giocare, quando lui aveva da poco smesso di essere il presidente del Catanzaro, quindi lo so, lo conosco, ha fatto la storia del Catanzaro, la portatina, quindi sicuramente è stato un personaggio molto importante per Catanzaro e per la Calabria. Oltre alla famiglia di Ceravolo, ex presidente del Catanzaro, al quale è intitolato il premio, presenti tra gli altri l'ideatore del premio stesso, il giornalista Maurizio Incerdà, il presidente della LND Calabria, Saverio Mirarchi, ed il presidente dell'ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri. Alle domande dei giornalisti sul futuro del calcio italiano, Mancini ha risposto che sarà importante ripartire dai vivai e che per fortuna ci sono già segnali positivi riguardanti l'inserimento e l'utilizzo di giovani negli organici anche di squadre blasonate che lottano per il vertice. Ci sono momenti storici per tutte le nazioni, ci sono dei momenti in cui le cose vanno bene, dei momenti in cui le cose non vanno benissimo e in quei momenti lì bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare un po' di più, però io credo che il calcio italiano ha sempre dato qualcosa di buono e continuere a dare. Ci sono anche segnali positivi con giovani inseriti in prima squadra, cose che negli anni scorsi non avvenivano. Adesso è presso, il campionato deve ancora iniziare, le squadre sono andate in ritiro da poco, quindi bisogna aspettare e sperare che chiaramente i giovani italiani possano avere grandi possibilità di giocare perché credo sia la cosa più importante. Procedere con immediatezza e instaurare il nuovo processo contro il Chievo per evitare che la società FC Crotone abbia a subire ulteriori gravissimi danni. E' quanto scrivono gli avvocati dell'FC Crotone, Giancarlo Pittelli ed Elio Manica, al procuratore federale della FIGICI Giuseppe Pecoraro chiedendo che a seguito della dichiarazione di improcedibilità contro il Chievo Verona per un errore tecnico nella mancata audizione del presidente Luca Campedelli venga subito istruito il nuovo procedimento. Il Tribunale federale infatti sostengono gli avvocati Pittelli e Manica non ha assolto la società Clivenze ma ha rinviato gli atti alla procura per rifare tutta la procedura da capo in modo corretto. Sì, abbiamo appreso circa una retta fa della pubblicazione del comunicato ufficiale sul sito della federazione. Diciamo il primo risultato è sicuramente che il Crotone per adesso rimane in serie B. Adesso vedremo, valuteremo insieme all'avvocato Pittelli e al presidente Brenna quali sono le strategie da adottare per impugnare questo provvedimento. Faccio una premessa. Noi ieri abbiamo chiesto al procuratore, siccome già da qualche giorno si vociferava di questa improcedibilità, ieri abbiamo scritto formalmente al procuratore di riaprire immediatamente le indagini sul Chievo Verona quindi convocare immediatamente Campedelli e fissare una nuova udienza davanti al Tribunale federale perché adesso la procura deve decidere cosa vuole fare. Se vuole impugnare questa decisione al Tribunale federale oppure lasciare perdere l'appello e ricominciare di nuovo tutta la procedura inquisitore, chiamiamolo così. Quindi adesso attendiamo le decisioni della procura. Consideriamo che l'appello va preannunciato entro le ore 12 di domani. Quindi entro le ore 12 di domani va presentato un preannuncio d'appello con la richiesta di documenti e poi si integreranno questo preannuncio di appello con il deposito dei motivi. Però ripeto, c'è il problema dei tempi. I tempi siamo molto stretti perché la colpevolezza del Chievo è nelle carte. Nel senso è stato condannato il Cesena, anche se con una decisione assurda perché praticamente il Cesena non pagherà nulla, la società è fallita, non è schizzata al camion. I 15 punti dati al Cesena da scontarsi nel prossimo campionato sono il paradosso di tutta questa storia. Prima operazione di mercato dell'FC Crutone che ha ufficializzato l'ingaggio in prestito dal sassuolo delle difensore Riccardo Marchizza. 20 anni, Marchizza è uno dei punti di riferimento della Nazionale Anderventi, difensore centrale mancino dotato di un'ottima struttura fisica e di una grande tecnica che gli hanno permesso di giocare anche da regista di centrocampo e una velocità che lo rende adattabile anche lungo la fascia sinistra. Sue caratteristiche è anche l'abilità nel calciare le punizioni di calci di rigore. Marchizza è cresciuto nelle giovanili della Roma con le quali ha vinto tutto, esordendo anche in prima squadra. Lo scorso anno è stato acquistato a titolo definitivo dal sassuolo. Il nuovo acquisto delle Crutone ha raggiunto i compagni nel ritiro di Trapidò ed è già a disposizione dell'allenatore rosso-blu Giovanni Stroppa. Lusca Tanzaro comunica di aver raggiunto l'accordo con la Spalla per acquisire il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista ganese Shaka Maulie Clou. Classe 98 lo scorso anno è andato in prestito al Fano dove ha giocato 31 partite segnando due gol. Arrivato in Italia nel 2013 ha giocato nel Serino in promozione campana. Lì si è fatto notare per le sue qualità tecniche. è dotato di un rapido gioco di gambe e di una buona precisione con i piedi. Qualità che hanno portato la Spalla a tesserarlo. Un anno da protagonista per lui nella primavera della formazione ferrarese. Poi, come detto, il prestito al Fano dove si è messo in mostra per la capacità sia di interdire che di costruire gioco. Le Clou è già in ritiro a Gubbio a disposizione di Auteri. Il calciatore arriva in prestito con opzione per il secondo anno. Il calciatore arriva in prestito con i piedi.